La Camera di Commercio è la casa delle imprese. La Camera di Commercio è un'istituzione che offre servizi alle imprese di tutti i settori durante l'intero arco operativo della vita imprenditoriale. In questa particolare e delicatissima fase economica, accanto ai servizi istituzionali propri della Camera di Commercio, abbiamo ritenuto opportuno aggiungerne nuovi servizi orientati specificatamente a favorire la ripartenza del sistema imprenditoriale di Firenze. In particolare i nuovi servizi sono stati focalizzati sulla consulenza, l'assistenza mirata a consentire alle imprese di accedere alle agevolazioni, ai finanziamenti, a tutte quelle che sono i contributi disponibili per la ripartenza, ma anche e soprattutto per favorire la digitalizzazione delle imprese, digitalizzazione in tema di quindi formazione mirata alle imprese, contributi per i processi di digitalizzazione del sistema imprenditoriale, ma anche in chiave di digitalizzazione abbiamo pensato di organizzare eventi mirati e specifici. Un esempio è il Buy Food Toscana, che organizzeremo il prossimo 29 di settembre a Siena insieme alla Regione Toscana, dove mettiamo insieme 50 leader, produttori leader del settore agroalimentare ed enocastronomico e li facciamo incontrare con 45 buyers provenienti da 17 paesi del mondo. Sono aperti cinque bandi della Camera di Commercio di Firenze per finanziamenti a fondo perduto alle PMI su internazionalizzazione, cooperative, filiera corta, partecipazione a mostre e fiere sulla sicurezza in azienda. La Camera arbitrale di Firenze, insieme agli ordini giuridico-economici del territorio fiorentino, organizza online tre corsi specialistici in materia arbitrale sulla piattaforma GoToMeeting. Union Camere e CNR organizzano a Roma, mercoledì 23 settembre, un workshop su ricerca pubblica, imprese e finanza. L'incontro, che potrà essere seguito in streaming, è rivolto alle istituzioni, al mondo della ricerca pubblica e delle imprese e vuole far conoscere le opportunità del piano impresa 4.0. Grazie per la visione!